Da quando Nintendo è diventata una compagnia di videogiochi, ha fatto molte scelte discutibili per quanto riguarda il trattamento delle sue proprietà intellettuali. Come ad esempio buttare giù video o interi canali che parlano di modifica hardware, per esempio come modificare un Nintendo Switch o un Nintendo 3DS, o anche canali Discord che trattano tale argomento, o anche canali Reddit. Insomma, un po' di tutto. C'è stato anche il caso del programma di affiliazione con Nintendo per quanto riguarda YouTube. Dal 2015 al 2018, se caricavi contenuti first party per capirci giochi di Mario e Zelda, non potevi farlo se non eri affiliato appunto a Nintendo. E che cosa prevedeva questo programma di affiliazione? Il 40% del ricavato dei video andava a Google, come è normale anche per qualsiasi altro programma di affiliazione, mentre il restante 60% veniva distribuito tra il creator e Nintendo. Quindi il creator riceveva niente. Uno dei periodi peggiori per chi portava solo contenuti first party. Ma qualche giorno fa Nintendo è riuscito a superarsi. Sono state pubblicate nuove linee guida. E che cosa prevedono queste linee guida? Dei comportamenti da rispettare quando si tratta un prodotto di una certa software house in questo caso. E queste nuove linee guida hanno fatto storcere e sputare veleno a molti. Ma andiamo per gradi. Partiamo dal pubblicare video online di gameplay. Fin qui tutto quanto tranquillo, come sempre è stato, se non che non si possono più pubblicare video nudi e crudi. Che significa? Registri il gameplay e lo pubblichi senza modifica alcuna. Ecco, ora non va più bene. Devi per forza metterci qualcosa di tuo. Anche un commento arriva bene. Quindi tu che dici Sala Cadua Magica Bula per tutto il video va bene comunque. Ma non puoi metterlo senza alcun tipo di audio tuo o una modifica pesante del contenuto. Nel senso che il prodotto diventa originale e non il semplice gameplay. Ora ci mancava anche questa. Ma questo solo per i contenuti first party, quindi Mario, Zelda e company. Questa linea guida è invece un po' più strana. Non puoi pubblicare né immagini né video di un gioco che ancora non è uscito. E grazie perché pubblicare tale contenuto equivalrebbe a pirateria del gioco e quindi è normale che ti becchi una denuncia, no? E invece no, perché se sei giornalista puoi farlo. Ed è molto strano perché io praticamente ora apro una partita IVA da giornalista e posso pubblicare un gioco che ho piratato. Questo è quello che c'è scritto nelle linee guida. O meglio, come lo interpreto io. Un po' strana sta linea guida perché poi continua che per i contenuti third parties, quindi un gioco per esempio Splinter Cell domani arriva su Nintendo Switch e se la casa produttrice mi dà il benestare posso pubblicarlo anche giorni prima dall'uscita. In quel caso Nintendo se ne lava le mani e ci pensa la casa produttrice. E ora la parte che ha fatto sputare veleno. I tornei non ufficiali. Apriti cielo! I tornei non ufficiali non potranno più essere svolti. O meglio, si potranno svolgere ma sarebbe meglio non farli per niente viste le restrizioni che hanno applicato. Ad esempio, un numero massimo di partecipanti in loco a questo torneo non ufficiale è 200. Un po' pochini. Mentre online 300. Posso capire, quasi capire, un torneo che lo fai in un luogo fisico, 200 persone, sono tante. Va bene. Mentre online, che partecipano anche ai giochi più beceri, quasi mille persone, proprio quelli più brutti di tutti che nessuno si caga, quasi mille persone, e non me ne fai almeno mille, no, 300 massimo. Non va bene per niente. Vabbè, dai. C'è un monte premi di denaro piuttosto cospicuo. No. Detto massimo, 5.000 euro. Parlo di euro perché è l'articolo italiano. Che poi questi 5.000 euro sono stati ritrattati perché all'inizio era nessun monte premi. Cioè tu non potevi neanche dare un monte premi in denaro al miglior giocatore di quella categoria. Quindi, se almeno sotto questo punto di vista un po' si sono ripresi, salvo poi che le cose peggiorano, non puoi avere sponsor paganti. Che significa? Io non posso chiamare Monster e dire Hey Monster, guarda, io ho 200 persone, mi sponsorizzi questo torneo, ti faccio vendere le bibite? Non va bene, perché sarebbe lucro e non si può fare un torneo a scopo di lucro. Infatti, i paninari e i bibitari non possono più vendere i loro prodotti a questi tornei. Non si possono vendere né cibi né bevande. Quindi l'organizzatore dovrà chiamare sua madre e dire Mamma, mi fai 5.000 panini per il torneo di Smash? E poi tutto questo devi notificarlo a Nintendo. E gli deve pure andare bene che lo fai. Perché se non gli va bene che dici 201 persone, eh eh amico mio, ciao, tanti cari saluti, non si fa il torneo. Tutto questo è deleterio. Io non capisco quale sia il problema di ospitare 200 persone o 500 in un luogo che io, che io caccio di tasca mia i soldi per affitto il terreno, affitto lo stadio, affitto quello che mi pare, potrò farci entrare tutte le persone che voglio. Il monte premi, se voglio farlo di 100.000 euro, a te che te ne frega? Sono soldi tuoi? No, sono soldi miei che ho fatto con gli sponsor. Perché devi dare queste limitazioni assurde? E perché poi devo notificarti tutto e ti deve pure andare bene? Dove è scritto? Nelle linee guida, da oggi. Io trovo strano che abbia pubblicato delle linee guida intelligenti, tipo non pubblicare il gioco prima dell'uscita, va bene, reiteriamolo ancora una volta, per chi non lo sa, e poi pubblicarmi sta cosa dei tornei non ufficiali. 200 persone fisiche e 300 online? Boh, io non ho parole. Però va così. Io non ho ben chiaro cosa abbiano in mente, ma di certo queste linee guida hanno solo dato modo ad altri di sputare altro veleno e far uscire peggio delle persone ancora una volta, ma tanto era Twitter, è un po' come sparare sulla croce rossa.